In questa quarta guida sugli smartphone per principianti parliamo dell'applicazione più utilizzata al mondo, probabilmente, Whatsapp. Di certo tutti conoscono Whatsapp, chiunque abbia uno smartphone, ma probabilmente anche quelli che non ce l'hanno, conoscono l'applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Certamente è molto semplice utilizzarla, basta scaricarla, inserire il proprio numero di telefono e iniziare a chattare. Ma con Whatsapp si possono fare tante altre cose e adesso vedremo un po' di funzionalità che forse non tutti proprio conoscono, anche quelli che lo utilizzano quotidianamente. Dunque, apriamo Whatsapp e la prima cosa che voglio mostrarvi è come accedere a Whatsapp web per salvare i file presenti in chat, quindi immagini, video, ma anche link, documenti, eccetera. Per prima cosa, ovviamente, bisogna accedere a Whatsapp web. Per farlo andiamo innanzitutto sull'app di Whatsapp, tre puntini qui in alto a destra, e c'è la voce proprio Whatsapp web. Per farlo bisogna andare poi sul PC, dobbiamo cliccare ovviamente su collega a un dispositivo, come vedete si apre una finestra che ci consente di andare a registrare il QR code presente poi sul nostro PC. Cioè, una volta fatto questo, dobbiamo andare poi sul PC, andare sul link web.whatsapp.com dove appunto appare, come si vede, un QR code, registrarlo tramite, scansionarlo tramite il dispositivo e si apre quindi l'app di Whatsapp sul web. Dunque, ecco come fare, inquadrato, non ho avuto neanche il tempo di inquadrare il QR code, come vedete siamo riusciti ad accedere a Whatsapp web. Dunque, siamo arrivati su Whatsapp web, apriamo la chat, basta cliccare sulla colonna sinistra dove abbiamo tutto l'elenco dei contatti e quindi aprire la chat. Abbiamo accesso alla chat, vediamo l'immagine, ci possiamo sia cliccare sopra o meno, per vedere se è quella corretta, se vogliamo scaricare, oppure andare qui, cliccare sulla freccia che appare in alto a destra e quindi cliccare su Scarica. Si aprirà poi la finestra pop-up tipica di Windows o su Mac per salvare l'immagine. Quando questa è un'immagine quindi subito è stata salva caricata su Whatsapp, però capita a volte, soprattutto con i video, che quando si va a cliccare sulla freccia qui in alto a destra non appaia la voce Scarica, questa voce qui. Bisogna attendere un attimo. Quello che potete fare è cliccare sul video, riprodurlo e attendere quindi che appaia questa freccia qui in alto a destra che punta verso il basso. Anche qui si può cliccare su Scarica e si salva direttamente. Un altro modo per scaricare file multimediale e farlo in maniera molto più rapida è andando qui sui tre puntini in alto a destra sul menu, quello che abbiamo chiamato menu, info, contatto e come vedete qui compare media, link e documenti che sono stati inviati. Documenti e link ovviamente come essendo il video di YouTube un link appare tra i link. Basta andare a selezionare come vedete se io passo il puntatore del mouse sulle immagini. Basta cliccare poi sulla spunta e qui in alto a destra poi sempre l'icona su Scarica e viene scaricato tutto in maniera rapida. Quando effettuate questa operazione viene scaricato tutto come file zip che quindi va estratto. Quindi vi ritrovate di nuovo le immagini tutte salvate sul PC. Dopo aver visto quindi come si possono scaricare i file, i file multimediali o anche documenti sul PC questo ci consente non solo di salvare appunto di archiviare magari immagini, video, documenti importanti ma anche di poterli eliminare dallo smartphone e quindi risparmiare spazio di archiviazione. Immagini e file in generale scaricati tramite WhatsApp non sono talmente tanti che vanno comunque occupare tantissimo spazio nonostante gli smartphone siano dotati di tantissime ormai di tanto spazio di archiviazione. Ma se hai un dispositivo che poi il spazio archiviazione non è che sia poi tantissimo quindi un dispositivo un po' più datato hai bisogno di eliminare o comunque di bloccare il download dei file di GIF di immagini e video c'è comunque un modo per farlo e poi decidere tu quali sono i file che vuoi i file multimediali che vuoi scaricare lasciare scaricare sul tuo dispositivo. Per farlo bisogna andare di nuovo qui sui tre puntini in alto a destra quindi in impostazioni qui bisogna andare poi in spazio e dati. Spazio e dati possiamo sia attivare, vi do un'altra dritta su come ridurre la quantità di dati, parlo proprio di dati internet, di giga consumati della propria tariffa ma quando si effettuano chiamate, si effettuate molto chiamate, poi spostare questo corsore e attivare quindi usa meno date per le chiamate. Ma dicevo per quanto riguarda le basta andare in download automatico media e come vedete ci sono anche le diverse modalità quindi quando si utilizza la rete dati, quando si utilizza il wifi o quando si è in roaming. Diciamo che conviene togliere la spunta a tutte le varie funzioni foto, video, audio e documenti quando si è in roaming per non pagare troppo. Quando si è connessi tramite wifi si può decidere se scaricarli tutti o meno. Quando si è sotto rete mobile, ovviamente potete scegliere per fare le stesse scelte per tutte le modalità, potete scegliere per esempio di scaricare le foto oppure meno. Se decidete di scaricare tutto allora dovete lasciare la spunta a foto, audio, video e documenti, altrimenti se togliete la spunta a queste voci e poi cliccate su ok, quando inviano un'immagine non sarà più scaricata automaticamente. Dovrete cliccare poi voi decidendo su quale vale la pena farlo. Dicevo cliccare sull'immagine, sul video, sul file multimediale ricevuto per evitare che si venga scaricato nella galleria del dispositivo. Un'altra cosa che è possibile fare è usare Whatsapp senza mostrarsi online. Questa è una cosa, una caratteristica viene chiesta spesso, vengono scritte molte guide su questo argomento. Come fare? Per farlo basta tornare, basta attivare il widget di Whatsapp. In che modo? Basta cliccare in un punto qualunque vuoto della schermata, questo vale ovviamente solo per i dispositivi Android. Puoi andare su widget e qui bisogna cercare il widget di Whatsapp. Eccolo qui, si possono scegliere alcuni widget di Whatsapp, basta tenere premuto, lasciarlo su una parte vuota ed ecco che qui quando riceviamo un messaggio viene mostrato qui e non abbiamo neanche bisogno di mostrarci online per andarlo a leggere. La stessa cosa vale, cioè se non ci vogliamo mostrare online possiamo utilizzare l'assistente vocale. Possiamo dire ok Google invia un messaggio a Jan. Questo è un sistema anche per inviare i messaggi tramite voce, quindi senza utilizzare nemmeno la digitazione. Un'altra cosa che è possibile fare è inviare messaggi a numeri non salvati in rubrica. Per per farlo basta utilizzare il browser, digitare https due punti slash slash wa.me slash 39 che è il prefisso dell'Italia non bisogna mettere nello zero nel più, solo il 39 e poi il numero di telefono di cui non sia in rubrica 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e cliccare su invio. Questo porta direttamente come vedete alla pagina di Whatsapp, continua e vai alla chat e si accede quindi alla chat di Whatsapp e si può iniziare quindi a chattare con il numero non è presente in rubrica. Allo stesso modo quindi sempre con https due punti slash slash w a punto me slash il numero di telefono di Whatsapp numero di telefono della persona con cui volete chattare che deve ovviamente avere installato anche gli Whatsapp sul proprio dispositivo punto interrogativo text uguale e basta inserire un testo e poi cliccare su invio questo consentirà di inviare appunto un testo pre compilato predefinito a questo numero. Un'altra cosa che è possibile fare è ascoltare i messaggi vocali in privato quando si riceve un nuovo messaggio vocale chiaramente è possibile inviare e cliccare su play e ascoltarlo naturalmente questo se si sta in casa propria o nel proprio ufficio cioè insomma quando ci siamo da soli possiamo anche ascoltarlo tramite viva voce ma se siamo per strada e non vogliamo far ascoltare i messaggi alle altre persone è anche questione di educazione se vogliamo non lasciare ascoltare i messaggi agli altri basta cliccare su play portare il dispositivo allora si ascolterà il messaggio come se stessimo parlando al telefono quindi solo noi saremo in grado di ascoltare il messaggio un'altra cosa che è possibile fare e che serve quando ci sono seccatori o persone che non conosciamo che ci inviano messaggi su whatsapp è quello di bloccare un contatto per bloccare un contatto bisogna aprire whatsapp aprire la chat che vogliamo di cui del contatto di cui vogliamo che vogliamo bloccare cliccare sul nome del contatto qui in alto e si accede alla pagina quindi con le informazioni del contatto i media i link documenti e tutta una serie di cose basta scendere qui in basso e cliccare su blocca una volta che il caso blocca di bisogno di nuovo quindi ci avvisa vuoi bloccare gianni fiore contatti bloccati non potranno più chiamarti e inviarti i messaggi che una volta cliccato su blocca il contatto viene appunto bloccato non ci potrà mandare messaggi noi però non potremo neanche vedere lo stato vedere se sono online eccetera ci sono altre funzionalità di whatsapp che consentono ad esempio di silenziare una chat se non vogliamo arrivare al blocco basta una volta aperta la chat cliccare su tre puntini in alto qui a destra qui si tratta sempre io sto utilizzando dispositivo android le stesse cose valgono per ios naturalmente ios alle funzioni alcune funzioni in basso e non in alto comunque la bisogna sempre andare nelle impostazioni non cambia nulla dicevo bisogna si può silenziare un contatto bisogna andare su disattiva notifiche e possiamo disattivarle se vogliamo per un certo periodo temporale oppure per sempre e possiamo anche mettere la spunta mostra notifiche cioè noi silenziamo il contatto questo ci invia i messaggi e vediamo comunque la notifica il messaggio inviato se invece non mettiamo la spunta non vedremo neanche le notifiche quindi non sapremo se non saremo noi ad andare aprire whatsapp cercare il contatto e vedere se ci ha inviato o meno delle dei messaggi altra cosa che spesso sembra una stupitaggine ma spesso mi trovo a parlare con persone che mi dico ma come hai fatto a inviarmi questa gif come hai fatto inviarmi questo adesivo come hai fatto come hai fatto come hai fatto come se fosse qualcosa veramente di straordinario eppure molto semplice con whatsapp come sappiamo si possono inviare messaggi si possono inviare però anche emoji adesivi questi cosiddetti stickers che tradotto in italiano appunto adesivi oppure si possono anche inviare gif come fare allora basta cliccare quando si apre si inizia accettare su whatsapp come vedete si apre la tastiera ma noi alcune tastiere hanno delle gif già incorporate gif stickers eccetera ma noi si interessano quelle di whatsapp basta andare cliccare sull'emoji il faccino a cui sorridente a sinistra abbiamo chiaramente tutte le mogli possiamo cercare tra le mogli per esempio scrivendo sorriso oppure tristezza oppure altre cose avremo tutte le emoji rapidamente relative a quella voce naturalmente ma se basta andare qui in basso ci sono altri due icone a che servono una e per le gif anche qui si apre in quella generale poi se vogliamo possiamo cliccare sull'icona della lente di ingrandimento e andare a cercare quello che vogliamo quindi ad esempio ciao e si apre quindi la vengono mostrate tutte le gif che relative appunto alla parola cercata possiamo aggiungere un messaggio e inviarla altra cosa si può fare poi con come detto gli stickers anche qui come vedete ce ne sono alcuni questi sono quelli impostati cliccando sul più in da qui a destra si possono poi andare se ne possono andare a scaricare altri whatsapp consente di scaricare utilizzare altri font però per fare questo bisogna scaricare applicazioni terze parti se non vuoi scaricare applicazioni terze parti ma vuoi comunque dare un enfasi per esempio al tuo messaggio puoi farlo utilizzando il testo in grassetto in corsivo o il testo barrato e poi utilizzare anche una combinazione di questi quindi utilizzare il testo in grassetto in corsivo contemporaneamente eccetera come fare è molto semplice l'unica cosa da fare è inserire alcuni caratteri speciali o meglio inserire le parole o le frasi che vogliamo enfatizzare tra alcuni caratteri speciali per esempio se io voglio utilizzare voglio scrivere pantare news in grassetto basta utilizzare gli asterischi scrivere asterisco pantare news e quindi di nuovo asterisco come vedete senza neanche inviarlo già è diventato in grassetto pure vogliamo utilizzare il testo barrato bisogna utilizzare il carattere tilde come vedete barrato senza inviarlo vi faccio vedere anche come utilizzare il testo in corsivo con utilizzando antecedente ponendo e posponendo la nel carattere underscore alla parola ripeto alla parola alla frase eccetera come detto possiamo utilizzare poi anche più caratteri speciali quindi se io aggiungo un asterisco prima e dopo come vedete abbiamo scritto in caratteri in corsivo in grassetto il la parola ciao posso anche aggiungere il carattere tilde e quindi abbiamo il grassetto la parola scritta in grassetto in corsivo e barrato come vedete io ho dovuto bisogna mettere non ha importanza si si mette prima un asterisco prima l'underscorro prima il tilde o in che modo l'importante è che la dopo la parola la frase i caratteri speciali seguono lo stesso ordine quindi se inserisco per prima l'asterisco questo va messo poi dopo la parola la frase alla fine se inserisco come secondo carattere come in questo esempio il carattere tilde questo va inserito come secondo carattere speciale dopo la parola la frase e così via in questo modo si può formattare anche il testo anche con questo video con questa quarta guida per i principianti in cui iniziamo a conoscere un po meglio anche le applicazioni non solo lo smartphone in generale abbiamo parlato di whatsapp come al solito vi invito a mettere like iscrivervi al canale condividere il video iscrivervi anche agli altri social trovate pantarai news anche su telegram con un canale dedicato alle offerte ciao da gianni fiore per pantarainews.com